Grazie a tutti. I carabinieri, ancora cronaca, utilizzavano alcol denaturato per produrre bevande alcoliche. L'operazione ha visto impegnati gli uomini della Guardia di Finanza. Aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano. Ieri a Torre del Greco si è registrato un decesso. In chiusura la cerimonia di consegna di targhe di merito questa mattina a Palazzo Baronale alle associazioni di volontariato e alle attività commerciali che si sono particolarmente distinte nei mesi difficili della pandemia. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Ispettori dell'Unità Investigativa Centrale dell'ICQRF e i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziare della Guardia di Finanza di Napoli, coadiuvati da personale degli uffici e reparti territoriali, hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Napoli Nord nell'ambito di un'articolata attività investigativa. Oggetto delle indagini è stata l'introduzione nel territorio nazionale di ingenti quantitativi di disinfettante ed alcol denaturato di origine estera che venivano utilizzati per la produzione di bevande alcoliche. Nel corso delle stesse sono stati già effettuati i sequestri in campagna in Puglia di prodotti e le analisi tecniche svolte dai laboratori specializzati dell'ICQRF hanno rilevato l'utilizzo del medesimo profilo chimico illegale, tipico dell'alcol denaturato destinato all'uso industriale e alla sanificazione. L'attività illegale ha permesso anche di evadere il pagamento delle accise in quanto il prodotto disinfettante, che non è soggetto al pagamento dell'imposta all'atto dell'introduzione in Italia, veniva successivamente utilizzato per la produzione di bevande alcoliche. La Guardia di Finanza, oltre ad assicurare un apporto operativo nella realizzazione delle predette attività d'indagine, ha provveduto ad acquisire documentazione contabile ed extra contabile, riferibile a plurime società, che sarà passata al vaglio dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziera di Napoli. Le perquisizioni svolte nella giornata di ieri hanno consentito di ricostruire in maniera ancora più dettagliata le attività realizzate dal sodalizio criminale, che ha risultato essere operativo anche nel settore della contraffazione di sigili di Stato e di genere alimentari di prima necessità. In particolare le forze di Polizia Giudiziaria, impegnate nell'operazione, hanno sottoposto a sequestro circa 2.800 litri di alcol, un ingente quantitativo di confezioni di champagne e vini, oltre 9.000 bottiglie di liquori e 900 bottiglie di olio extravergine di oliva. Inoltre l'estensione delle perquisizioni a tipografie e depositi commerciali ha consentito di rinvenire e sottoporre al sequestro 300.000 contrassegni di Stato a contraffatti, oltre a numerosi cliché per la stampa di false etichette che sarebbero state apposte ai prodotti di provenienza illecita. Da ultimo, nei confronti degli indagati, si è proceduto al sequestro di ingenti somme di denaro e di numerosi assegni per lo simile provento dell'attività delittuosa posta in essere. Ancora in lieve aumento i contagi nei comuni vesuviani. Non è ancora possibile considerare questa pandemia terminata o in via di soluzione. I dati continuano a descrivere una situazione non allarmante ma che registra ancora un lieve aumento dei contagi. Nel comune di Torre Annunziata si registrano due nuovi casi di contagio a fronte di 59 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta al 3,39%. Non ci sono state guarigioni. A Bosco Reale, dal 7 al 18 luglio, si sono registrati sei casi di positività al Covid-19 su un totale di 287 tamponi effettuati, con una percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati del 2,09%. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, si registra un nuovo positivo ed anche un decesso. Si attestano anche due guariti. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 87 attualmente positivi, di cui 21 ospedalizzati. La rete del volontariato e della solidarietà ha vinto a Torre del Greco. Questa mattina nella sala consigliare di Palazzo Baronale la consegna di targhe alle associazioni e alle attività commerciali del territorio che si sono particolarmente distinte e prodigate per il supporto e l'assistenza alla collettività nei mesi difficili della pandemia. Nelle interviste di TV City, le testimonianze di chi si è speso per gli altri senza riserve e la consapevolezza che facendo squadra si possono affrontare le difficoltà. È stato veramente un risultato eclatante. Complimenti a loro. Tra l'altro la sinergia, la rete, come ha detto lei, veramente sono stati la nota positiva in un periodo drammatico che abbiamo vissuto ed era doveroso e voluto dall'intero consiglio comunale dare un riconoscimento a queste persone che si sono spese senza risparmiarsi per 14 lunghi mesi. Noi comunque intendiamo agevolare una rete anche formale di queste associazioni perché possono poi dopo essere ancora di più, se possibile, presenti sul territorio così come hanno fatto nel passato, ancora di più, con l'olente al suo fianco, al loro fianco. Non poteva mancare un apporto dell'istituto di credito sotto vari aspetti. Il primo è quello che in questi casi, in un evento che ha cambiato le nostre vite, era fondamentale e necessario. Cioè voglio dire, sostenere soprattutto quelle associazioni di volontariato che sono state da avere tanto, che si sono impegnate nel aiutare quelli in difficoltà. Il secondo riguardava proprio la banca, cioè la parte economica, quello di voler sostenere le imprese in un momento in cui veramente sembrava tutto perduto. C'è una parte di banca che molto spesso non viene considerata che quella della responsabilità sociale, quello che un po' tutte le aziende dovrebbero avere. Questo è un tema al quale la Banca Popolare come banca di territorio ci tiene in maniera particolare e quindi una serie di attività che abbiamo messo insieme, compreso quella della pandemia e soprattutto di quello che sarà il dopo pandemia. Abbiamo preso questo attestato, questo riconoscimento, noi lo accettiamo volentieri, proprio per fermare un momento. Un momento in cui la banca stessa, che in qualche modo è stata un po' collettore delle richieste che c'erano sul territorio, ha visto una grande solidarietà, ha dimostrato che su questo territorio c'è una grande ricchezza, fatta soprattutto di persone. E queste persone lasciano un grande messaggio di speranza per il futuro. Si vede ora la luce fuori dal tunnel? Io credo che molto dipenderà dalla campagna vaccinale, diciamocelo, insomma, quindi un invito anche a vaccinarsi a tutti quanti, perché è fondamentale. Vince sempre il volantirato sul Torre del Greco e il volano di questa città. L'Unitalsi, come ha fatto da sempre, lavora sempre in silenzio. Difatti, dicevo, noi non volevamo essere presenti a questa manifestazione, perché i conoscimenti più grossi non sono dati dal Comune, ma dalle persone che tuttora ci chiamano, che hanno ricevuto il nostro aiuto, la nostra vicinanza. Ed è bello sentire tuttora queste persone che ci chiamano per ringraziarci, anche se non hanno più bisogno di noi. Che cosa le è rimasto nel cuore di quei mesi difficili? Potremmo scrivere libri, veramente abbiamo tantissimi episodi da raccontare. Gente che veramente non ha mai chiesto, gente che ci è stata segnalata, gente che piangeva, era chiusa in casa, non sapeva cosa fare, non sapeva come fare spesa. E avevano anche vergogna di chiamarci. Lei prima diceva che il Comune non vi è stato vicino, ma non è una polemica. Non è assolutamente polemica, è un'osservazione. All'inizio della pandemia abbiamo chiamato al Comune per farci dare una mano, per farci dare delle indicazioni. Come diceva prima il Sindaco, forse il Comune non era pronto, nessuno forse era preparato a quello che stava succedendo. E quando abbiamo chiesto una mano, qualcuno ci ha risposto, dovete ringraziarci perché vi stiamo facendo fare. Quella è la cosa più pesante e più dura da digerire. Però, nonostante l'assenza in quel momento delle istituzioni, siamo andati avanti, abbiamo potuto fare tante cose. Noi siamo presenti sul territorio da circa 50 anni. Noi operiamo sempre, nel periodo specifico del Covid e della pandemia, ci siamo visti raddoppiare le forze, nonostante l'età. Ma perché gli altri ce l'hanno date? Sia perché moltissimi bussavano alle nostre porte, e sia perché sentivamo veramente crescere in noi la necessità di farci sentire con forza vicino a queste persone in grave difficoltà. Abbiamo avuto tanti amici che ci hanno regalato le loro offerte, senza che noi avessimo chiesto niente. E quelli sono stati i doni più belli. Abbiamo conservato, proprio per questo della pandemia, abbiamo dato circa mille pacchi alimentari, e siamo continuando a darlo. Il cuore di Tore ci sta, che le famiglie ci stanno, e questo ci dà la forza di continuare. È stata un'esperienza unica, perché migliaia di persone bussavano alla porta, avevano necessità di cibo, piangevano, avevano bisogno. Quindi è stata un'esperienza molto dura. Eravamo veramente tanti. Nonostante ci fosse la paura del Covid, eravamo sempre 20-30 persone che lottavano per ricevere cibo e per portarlo in tutte le case. Viete scese in campo con coraggio, affrontando le paure e le difficoltà. Sì, con l'unione però di tanta gente, quindi con la solidarietà. Quando si è in tanti, niente fa più paura. La mia associazione è un'associazione dedicata a mio figlio, quindi c'è lui con me che mi aiuta veramente a fare tutto. E con questa notizia si è chiusa anche oggi questa edizione del nostro Tg. Prima di salutarvi vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS e revisione a cura di QTSS